Biotestamento, stabilizzazione dei precari del CNR, ma non solo, dell'intera ricerca italiana, norme anti-abusivismo, sono i tre provvedimenti che portano la firma dei socialisti con i quali chiudiamo il 2017. I miei auguri vi vengono non soltanto dal segretario del Partito Socialista italiano, ma anche da uno dei componenti del simbolo insieme, con ambientalisti, con il mondo olivista, con i prodiani. Sarà il simbolo con cui ci presenteremo alle prossime elezioni politiche, a marzo. Sarà un simbolo, spero e penso fortunato. Lì dentro ci sono le buone storie che hanno reso l'Italia più civile e più libera, le buone storie che hanno sconfitto il centrodestra di Berlusconi nel 1996 e nel 2006 e si dice dalle nostre parti non c'è due senza tre. Le tre buone storie che possono rendere l'Italia competitiva e il centrosinistra non arrendevole nella prossima campagna elettorale. Buona vita a ciascuno di noi, buona vita a ciascuno di voi. Che il 2018 sia un anno, prima ancora che di vittorie, un anno di coraggio e di straordinarie passioni, davvero di cuore.